Da riserva in Serie C con la maglia del Bari è una possibile occasione da titolare contro la Juventus con la casacca del Napoli. È la storia di Davide Marfella che nei prossimi giorni potrebbe vivere un caso tanto anomalo quanto emozionante perché il portiere classe 99, uno dei protagonisti della cavalcata del Bari dalla Serie D al professionismo, è tornato a Napoli quest'estate dopo il triennio passato in bianco-rosso con 38 presenze collezionate, la stragrande maggioranza nel campionato di Serie D però. Le notizie delle ultime ore non sono delle più confortanti in casa Napoli in vista della gara contro la Juventus perché il primo portiere Meretta ha subito una frattura a due vertebre ed è sicuramente fuori dei giochi mentre il colombiano Spina ha subito una forte contusione nella gara con la sua nazionale e in più rientrerà nel pomeriggio di venerdì a sole 24 ore dall'importante sfida contro i bianconeri. Tutti questi fattori fanno pensare che Luciano Spalletti possa scegliere Davide Marfella che sino a qualche settimana fa si trovava a recitare il ruolo di secondo in Serie C ed ora potrebbe regalarsi una giornata indimenticabile allo stadio Diego Armando Maradona contro la Juventus per una partita che chissà potrebbe anche essere la svolta della sua carriera in fondo la vita e il calcio sono fatti di piccoli episodi.